I temi affrontati da studiosi di inquinamento ambientale legati alla biologia marina sono tanti e di grande attualità secondo quanto rilevato dal continuo monitoraggio dei nostri mari. Quella di questo simposio è un'occasione importante per affrontarli in maniera scientifica. Ascoltiamo la dottoressa Concetta Messina, presidente della sezione di Trapani della Società Italiana di Biologia Sperimentale. Abbiamo realizzato questo simposio, il primo simposio di biologia sperimentale applicata al mare e all'ambiente di una delle più antiche società scientifiche italiane, la Società Italiana di Biologia Sperimentale. L'abbiamo organizzato qui a Trapani che è sezione della Sibs appunto da due anni proprio con l'intento di coagulare in queste due giornate temi che sono assolutamente all'attenzione non soltanto locale ma anche regionale e mondiale con il contributo di colleghi e non soltanto dell'Università di Palermo ma anche colleghi di università straniere e di altre parti d'Italia che lavorano negli ambiti più vari della biologia applicata all'ambiente non soltanto al mare ma anche all'ambiente acquatico, alle relazioni che ci sono appunto tra ambiente e salute spaziando appunto da temi come i cambiamenti climatici, alla risposta allo stress da parte degli organismi marini, all'effetto di inquinanti sui sistemi cellulari, sulla salute umana con appunto temi che sono sicuramente più all'attenzione del pubblico come appunto le microplastiche, come inquinanti emergenti e altro. Quindi due giornate dedicate proprio allo studio e indirizzate principalmente a più giovani con l'obiettivo di stimolarli verso queste tematiche. Grazie. 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 Grazie.